De Caro Home Street Food, panino con polpette gourmet, porchetta, pollo allo spiedo e altre specialità, tutte cotte al forno. Per De Caro comincia la nuova avventura, vi aspetta in via Carlo Del Balzo ad Avellino. Nasce ufficialmente la Casa della Cultura, cinematografica Camillo Marino e Giacomo Donofrio. Il Consiglio Comunale di Avellino ha votato la proposta dell'assessore Gambardella non senza polemiche. Il parere è negativo non solo dalla minoranza con il gruppo Sipò, netto dissenso, ma anche tra i banchi del PD con Percopo, Melillo e Matetic che votano contro e lasciano l'Aula. L'Eliseo sarà gestito da una fondazione di partecipazione. La proposta è passata con 16 voti favorevoli. I tre consiglieri della maggioranza, così come gli esponenti dell'opposizione, hanno contestato la mancata condivisione della proposta chiedendo, come nel caso di Giancarlo Giordano, di poter sospendere il voto alla luce della situazione ancora non definita, relativa alla proprietà del bene. La fondazione che gestirà la Casa della Cultura sarà una onlus senza dunque scopo di lucro, aperta all'apporto di altre associazioni, sia pubbliche che private. L'obiettivo indicato nella delibera di giunta è di promuovere e diffondere lo sviluppo dell'arte e dello spettacolo cinematografico con il ripristino della sala e privilegiando produzioni indipendenti ed autore. Un meta-laboratorio culturale che però sia in grado di autofinanziarsi e che non si riduca in un gratuito rifugio di associazioni, anzi diventi un riferimento regionale di espressione e incubazione di imprenditoria culturale e sociale. L'Eliseo però non è ancora nella piena disponibilità del Comune ma anche al Via Libera della Regione. L'atto secondo l'assessore Gambardella delegato alla cultura in giunta sarà firmato a breve.